In circa un metro, in terracotta, erano state riempite di rotoli, perché scrivevano sempre con i rotoli, un papiro, un genere, un materiale naturale, arrotolato, messo in verticale. Quando l'anfora è piena, l'hanno riempita di sabbia, asciutta, riempita bene e sigillata. Operche e sigillate. Chi apriva l'anfora la vedeva piena di sabbia. Poi, queste amfore erano state infilate in questi pozzi, pieni di sabbia. Dai che stai. Ti senti spingerti, non stai in verticale, ma stai in fuori. Un giorno fu battezzato da Giovanni, rinnoviamo le promesse del nostro battesimo, con le quali un giorno abbiamo rinunciato a Satana e alle sue opere, e ci siamo impegnati a servire fedelmente Dio nella Santa Chiesa Cattolica. Rinunziate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio? Un giorno fu battezzato da Giovanni, rinnoviamo le promesse del nostro battesimo, con le quali lo rinunciate al Signore con la vostra vita. Andate in pace. Le rendiamo, grazie a Dio. Grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio. Grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio. 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 Vedi di più dall'alto che non è, si poi è proprio da addetti al lavoro bene addetti in epoche da super specialistiche è qua, è proprio sotto le cabine queste qua, ci ho già provato ma non so cosa ne vengono quanto verde però mamma mia ma qui si, perchè no? ecco, qui sono gli scavoli ed è questo, basta che ci sia dell'acqua è tutto l'acqua colgata bene benvenuti qualcosa è venuto, poi vediamo questa è la vita del genico che il profeta Eliseo mi è il ricercito di Dio non accortatevi perché mi viene colpa da parte per noi andiamo a vedere che è là giù va bene si è cambiata la strada e purtroppo allora va bene si vede il Wadi Kelt ci si va dove siamo stati noi padre ciao 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 osso di cammello collana osso di cammello bella причino vorrei ho passato avanti a Aldo questo grida non si sta mai porta d'oro che adesso non vediamo vedremo di là è quella porta d'oro che è curata lì siederà il giudice e i bordi che sono sepolti qui saranno in polposini. Allora lì la porta santa, la porta d'oro. Ecco, la porta d'oro è quella. Non è una moschea ma un santuaglio, non fanno le preghiere lì. Quello è il Sion, il porta Sion. E dove vedete la pietra? E' la cima del monte. Qui in basso, che è partita dalla schianata del Tempio e scendeva a sinistra. La pietra è il punto dove Mauvetto fu assunto al cielo. E' proprio santo per questo momento. nazista gu. e per questo c'è la mia malunità è davvero con l'assistica. Padre e Figlio e Spirito Santo, glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.